scusate ragazzi e ho finito la memoria e quindi mi era finita quindi adesso continuiamo con la nostra rete review così sono i giochi gba non c'è più niente da spiegare mi ho fatto per pervi capire che era stato un piccolo sbaglio quale stive c'è tutto ormai abbiamo spiegato tutto grazie amici di youtube che mi avete seguito fino adesso iscrivetevi se non siete ancora iscritti e mettete un bel mi piace grazie